E' finita con la nuova vittoria della Polisportiva Matese 64-51 al Palatenta di San Potito Sanitico la gara 4 con il centro-esser di Napoli per i play-off di basket validi per la promozione in Serie C maschile. Ora le due squadre sono in parità con due vittorie a testa e domenica ci sarà la gara più attesa della stagione che si giocherà a barra poiché quest'ultima è arrivata prima in classifica nella regolare stagione, una battaglia che ha visto la squadra matesina sotto anche di 10 punti lo scorso giovedì ma nel finale la squadra colpo su colpo ha reagito con grande carattere portando a casa la preziosa vittoria. Domenica dunque sarà la partita della vita per i matesini che si giocano l'intera stagione, dovranno tirare fuori il carattere e la voglia del finale della scorsa gara per poter far fronte ad una squadra fortissima ma non impossibile da battere. Loro avranno a favore il fattore campo, giocheranno sotto la spinta di un pubblico coloroso che vuole vincere ad ogni costo, i matesini ora o mai più dovranno giocare con il cuore per vincere e coronare così la bellissima stagione della polisportiva con una nuova promozione. Da Piedimonte e Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it 간oratere.it